Torna anche quest'anno con grande successo l'ormai tradizionale appuntamento con la festa della musica di Caposele. Musica, spettacolo, arte, danza e tanto divertimento. Sono questi pilastri della manifestazione che ogni anno regala emozioni nell'incantevole cornice del parco fluviale, a pochi passi dalle sorgenti sanità e dalle incantevoli cascate naturali che caratterizzano la stupenda cittadina della Valle del Sele. Caposele è stato il primo comune campano ad aderire al circuito europeo della festa della musica, la manifestazione popolare che si tiene il 21 giugno ed in molti casi anche nei giorni successivi di ogni anno per celebrare il solstizio d'estate. Quest'anno a Caposele come sempre tante nuove proposte musicali, scuole di danza locali ed anche nomi importanti del panorama artistico nazionale come Angelo Famao con il suo tormentone Tusi a fine Romunno. Il tutto chiaramente a Caposele è legato sia alle bellezze ambientali che alle prelibatezze enogastronomiche. Infatti non sono mancati, non mancheranno nella serata odierna, stand enogastronomici con prodotti tipici locali come le matasse e ceci. Per quest'anno poi un dolce fuori programma, anche se non collegato alla festa della musica, un matrimonio con rito buddista nel piazzale antistante in Museo delle Macchine di Leonardo. Un modo dunque per mettere insieme da confronto culture diverse, forse anche nel nome della musica. Soddisfazione nelle parole del presidente dell'associazione Festa della Musica, Giovanni Viscardi. Siamo felici, spiega Viscardi, di come sono andate e stanno andando le cose. La musica è unione, passione e divertimento. E la nostra soddisfazione è vedere tanti giovani e non solo stare insieme nel nome dell'arte musicale e dello spettacolo. Un grande evento quindi a Caposele, grazie al quale tanti altri comuni irpini, come tra gli altri Avellino, Andretta, San Nicola, Baronia e Valle Saccarda, hanno aderito ad un'iniziativa che fa del divertimento, dell'arte e della musica i suoi pilastri portanti.